Dagli edili agli impiantisti ma anche gli installatori o i professionisti del legno arredo e non solo, il nuovo tavolo casa nato dalla sinergia fra Confindustria Belluno Dolomiti e Ance Belluno raggruppa aziende e professionalità differenti per rispondere alle richieste di un settore come quello delle costruzioni in continua evoluzione in un contesto altrettanto dinamico. Il tavolo casa è nato da un'esigenza che rispecchia tutta la nuova tendenza che ci viene richiesta dall'Europa. Il costruire non è più un costruire che si limita al piccolo imprenditore, al piccolo artigiano che costruisce una casa ma bensì un'unione di intenti fra varie categorie di lavoro dove c'è la conoscenza specifica del materiale collegata alla salvaguardia dell'ambiente. C'è grande vivacità in questo periodo in provincia, ribadisce Ance Belluno, l'associazione provinciale dei costruttori edili, sulla spinta anche dei programmi introdotti per dare nuovo slancio all'economia dopo la voragine del Covid. Secondo me sì perché abbiamo praticamente molti fondi PNRR hanno sviluppato una notevole mole di lavoro, di fatti collegato a questo c'è tutta l'esigenza da parte di tutte le imprese di avere più mano d'opera e quindi la ricerca anche di nuova mano d'opera e collegato a questo anche di avere nuove case per ospitare la mano d'opera che è necessita in questo periodo. Carenza di figure specializzate da inserire nel tessuto produttivo, mancanza di alloggi, spopolamento sono tematiche che si rincorrono in merito alle quali anche gli stessi imprenditori sono pronti a fare la loro parte. Stiamo cercando di collegare, far partire da quello che è il tavolo a casa, un tavolo che oltre a trovare e con confronto sia anche quello di realizzare degli edifici con le nuove tecnologie per poter ospitare la notevole mano d'opera che ci viene richiesta in questo momento da tutte le varie sezioni della Confindustria Belluno Dolomiti.